L'Ovidiana riconquista il primo posto assoluto. Il successo contro l'Atletico Preturo ed il pari del Capestrano con il Bazzano fanno la differenza a favore dei Biancorossi che si portano a più due dalla seconda posizione. Netto successo per 6-0 nella squadra di Bujacic che nonostante di fronte c'era l'ultima in classifica scende in campo concentrata e senza sottovalutare l'avversario. Il primo tempo è un monologo dell'Ovidiana che sblocca il risultato al tredicesimo con un colpo di testa di Romanelli sugli sviluppi di un corner di Napoleoni. Tre minuti dopo arriva il raddoppio, traversone dalla sinistra di Napoleoni ed in area Romanelli colpisce di testa a palloretto per il 2-0. Allo scadere l'Ovidiana cala il tris, punizione di Cerpia per la testa di Romanelli con la palla che colpisce alla traversa ed entra in porta per il 3-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa incrementano il punteggio ma al sedicesimo falliscono un rigore assegnato per un fallo del portiere su Alossi. Dal dischetto si distingue l'estremo difensore dell'atletico Preturo che riesce a parare il tiro di Romanelli. Il quarto gol dell'Ovidiana arriva un minuto dopo con una conclusione di Alossi che il portiere non trattiene. Al ventidressimo si vedono gli ospiti con un tiro respinto da Imperatore con palla mandata poi provvidenzialmente in corner da Sclocchia. Al trentacinquesimo un difensore dell'atletico Preturo anticipa in area Romanelli ma deposita involontariamente il pallone dentro la sua porta per il 5-0 dell'Ovidiana. Al trentottesimo l'atletico Preturo colpisce una traversa su punizione. Al quarantunesimo c'è un tiro insidioso di Cerpia respinto dal portiere. Al novantesimo esatto Sclocchia verticalizza per Romanelli che in area batte il portiere realizzando il suo quarto gol che vale per il definitivo 6-0. Sicuramente sarà una partita non soltanto guardando il risultato perché a volte il risultato fa pensare ben altro. È vero che abbiamo giocato il fanalino di coda però è anche vero che se queste partite non le affronti con la mentalità giusta rischi di fare una brutta figura. Più che altro perché sei ancora lì sopra, puoi continuare a sognare, a lavorare tranquillo. Se non la affronti con l'approccio giusto rischi di buttare tutto il bello e il sacrificio che stai facendo finora. Quindi sono stato un po' pesante per farmi capire questa cosa e per fortuna i ragazzi hanno risposto bene. È stata una partita importante soprattutto per ritornare al vertice della classifica dopo lo stop col campo di Giove. Oggi è stata una partita diciamo abbastanza semplice però diciamo che l'abbiamo pesata col piglio giusto subito facendo tre gol nel primo tempo e quindi mettendo in cassaforte la partita. Con i quattro gol realizzati contro l'atletico Preturo il bombe Rezio Romanelli si conferma al secondo posto della classifica marcatori salendo a quota 23 gol. Sicuramente sono molto contento di essere arrivato a quota 23 e spero di fare tanti altri gol e portare la squadra alla vittoria del campionato e chissà dove anche. Attenzioni puntate adesso sul recupero di mercoledì a campo di Giove che in caso di vittoria permetterebbe all'Ovidiana di portarsi a più 5 dal capestrano. Sicuramente non dobbiamo prendere sotto gambe al campo di Giove anche se diciamo non è come noi vertici della classifica. È una partita importantissima, loro sono una squadra molto ostica e l'hanno dimostrato anche perché è uno dei pochi pareggi che abbiamo fatto all'andata. Dobbiamo prendere quella partita come questa e fare subito il gol e portare a casa i tre punti. Mercoledì sarà una partita difficilissima, forse la più difficile di tutto il campionato. Secondo me anche compresa questa, questa di oggi secondo me dopo tanti anni di calcio secondo me quando giochi con queste squadre così sono le partite più rognose, più brutte da giocare. Con campo di Giove sarà molto difficile anche perché a mio avviso hanno dei giocatori molto validi, è una squadra che sicuramente non merita stare là sotto, deve stare un po' bugiardo anche la posizione in classifica loro. Quindi sicuramente un rivale di tutto rispetto sarà molto molto difficile, cercheremo ovviamente di andare là, cercare di fare il nostro meglio e fare il risultato. Sempre con molta umiltà, piede per terra e cercando di fare il meglio possibile.